Guardate che buchino Le soluzioni sono due, ma presentano dei dischi L'arancione così, ti interessa? Quindi la stecca sta qua dentro Sono terrorizzato da sta cosa Di questi noi abbiamo due Quindi niente di fatto, anche oggi? No, assolutamente no Non capisci che io ho una mano in buona e senza mutande Buio! Ciao a tutti!